bentornati nel canale sono pietro vrn oggi vi riporto con estremo piacere e anche tantissima curiosità un nuovo appuntamento sul range simulator il titolo della toxidog che vi ho portato a lungo sul canale attraverso una bella serie in cui per l'appunto vi avevo mostrato l'evolversi del mio range di tutti gli animali di tutto ciò che aveva acquistato recentemente ragazzi esattamente poche ore fa quindi nel giorno di ferragosto c'è stato un aggiornamento che ha portato il simulatore alla versione 1.063 e quindi oggi andremo a dare un'occhiata anche ai nuovi contenuti che hanno inserito all'interno di questo bel simulatore agricolo nel frattempo andiamo subito ad osservare la prima il primo grande cambiamento andiamo per l'appunto nella ghiera girevole del personaggio ci accorgeremo che c'è una nuova una voce in più questa pala che al momento è disattivata perché per l'appunto dobbiamo andarla ad acquistare e ci servirà per una caratteristica nuova una nuova funzione che hanno aggiunto che andremo a vedere dopo nel frattempo volevo così a livello nostalgico dare un'occhiata a tutto il mio range ma anche per fare un po un piccolo percorso riassuntivo quindi la zona del miele tutti i miei cestini e tutti i miei serbatoi per lo stoccaggio della carne dei miei ortaggi la zona del pollaio i miei mini lotti di terreno anzi già i peperoni sono pronti la mia serra questa era la zona per il per lo stoccaggio di un po di legname la zona per appunto dei suini lì in fondo chiaramente le capre questa erano se non ricordo male le mucchie da carne mentre da quest'altra parte oltre al mio pozzetto l'approvvigionamento idrico le mucchie da da latte tante belle attrezzature mi ero organizzato con acquistando un po di tutto quindi miti trebbie bar erpicatori trattori questa era la zona per la punta dedicata alla silvicoltura questa era la zona dedicata all'allevamento dei cavalli alla fine poi avevo solo un cavallo lì in fondo ma poi ci torneremo proprio sul cavallo non ricordo male vabbè il fienile che già avevo ricostruito carrellini rimorchi seminatrici insomma non manca niente in questo range e allora di che cosa ci occupiamo oggi andiamo a dare un'occhiata un po ai nuovi contenuti quindi io non perdo tempo devo prendere possesso della mia gippetta però ho dato prima un'occhiata velocemente devo caricarla di carburante perché sono quasi a secco quindi inseriamo per l'appunto una delle mie tanniche di carburante ok direi che così va bene saliamo a bordo e andiamo via un po arrugginito ragazzi però il mondo di gioco di range simulator ripeto ragazzi per la lunga serie che vi ho portato perché un titolo che mi aveva appassionato tanto è un po come ritornare a casa questa la zona delle aste dei cavalli poi ci torneremo per un altro argomento i miei terreni c'è solamente questo terreno a girasoli in crescita gli altri terreni li devo riseminare ma presto riprenderemo le vecchie abitudini e allora ragazzi oggi andremo nella zona della ferramenta quindi tralasciamo lo shop dei veicoli perché non ci sono delle novità per quanto riguarda nuovi veicoli ma ci sono delle novità per quanto riguarda alcune attrezzature che adesso vi andrò a mostrare allora ci dirigiamo velocemente nella zona della ferramenta allora il modello fisico più o meno è rimasto tale quindi tutto sommato se non si accelera troppo la guidabilità comunque va bene scendiamo dal veicolo e andiamo a fare un po di shopping ragazzi allora innanzitutto dobbiamo andare qui non ci sono delle sostanziali novità anzi non c'è praticamente nessuna novità nella ferramenta se si accettano due nuove attrezzature innanzitutto la pala quella che vi dicevo prima che dobbiamo acquistare e che ci andrà che si andrà ad inserire all'interno della chiera girevole poi finalmente hanno introdotto il rimorchio per il trasporto dei tronchi costa 500 dollari ma in cassa tutto sommato aveva una bella cifretta quindi non rappresenta per l'appunto un problema questo quindi andremo a fare per l'appunto anche un bel test poi vi spiegherò qua perché allora come potete vedere trasportino da 36 tronchi e la pala andiamo a fare un bello screenshot prendiamo la pala che come potete vedere si va ad agganciare all'interno del della nostra ghiera girevole eccola già in mano ma per il momento non ci serve andiamo a prendere piuttosto il carrellino in italiano a bordo della gipetta se ricordo bene dobbiamo per l'appunto agganciare il carrellino ok e finalmente torniamo in farm anzi no prima di andare in farm facciamo un'altra cosa ragazzi dobbiamo dirigerci allo shop perché c'è un'altra novità che devo assolutamente mostrarvi ed è relativa proprio al fatto per il ecco perché per l'appunto ho acquistato quella pava perché con il nuovo ragazzi aggiornamento hanno introdotto una grandissima novità allora il trasporto dei tronchi questa è una novità che a mio avviso doveva essere introdotta fin dall'inizio del titolo quindi non so perché ma ci hanno pensato dopo anni dopo di introdurre per l'appunto un carrellino trasporta tronchi ma si sono decisi e devo dire che anziché tenerli per l'appunto in mano oppure organizzarmi alla mene peggio con dei sistemi che non erano per l'appunto per la consegna della dei tronchi al meno hanno provveduto ad inserirlo allora andiamo allo shop ragazzi devo prendere un'altra cosetta perché per l'appunto come vi dicevo prima il la pala ci servirà per andare ad introdurre una nuova attività all'interno del mondo di gioco e la nuova attività ci viene ad essere garantita da una nuova icona qui all'interno del mondo di gioco e soprattutto all'interno dello shop e cioè hanno introdotto come potete vedere le piantine di albero ne acquistiamo giusto per testare per l'appunto queste piantine fino a quattro pezzi non di più per sole per soli 40 dollari e ce li andiamo per l'appunto a caricare come di consueto uno per uno nel nel piccolo spazietto del del nostro della nostra g pet in pratica queste piantine ci vengono fornite con la piccola zolla di terra ma per l'appunto per piantare queste piantine d'albero chiaramente dobbiamo scavare ecco perché per l'appunto mi sono organizzato ragazzi e hanno allestito e hanno pensato di introdurre nel mondo di gioco chiaramente quella pala che adesso andiamo per l'appunto a testare riprendiamo anche queste belle piantine quindi finalmente ci sono delle novità davvero interessanti perché finora ragazzi il mondo di gioco se riflettete bene è sempre stato taglio alberi per l'appunto produzione di qualcosa ma non c'era mai stata la possibilità né di trasportare per l'appunto i nostri tronchi a meno che non li trasportavamo a mano ci organizzavamo in altre maniere più o meno arcaiche ma non c'era la possibilità di ripiantare le nostre piantine e finalmente lo hanno fatto quindi oggi ci dedichiamo a testare anche la piantazione diciamo la piantatura diciamo di queste piantine di albero e poi ci dedicheremo anche ad un'altra grandissima novità che hanno introdotto all'interno del nostro bestiame quindi andiamo nel frattempo al mio range ecco come vi dicevo prima la guida tutto sommato si è mantenuta dignitosa basta non accelerare troppo e il veicolo si controlla il posto bene allora dove andiamo direte voi con questa con questa gippetta ci richiamo ragazzi più o meno in questa zona e ci fermiamo più o meno qua andiamo dal veicolo apriamo la nostra ghiera e cominciamo a testare per l'appunto la nostra pala la pala funziona ragazzi a mio modo di vedere un po come i vari farmer dynasty oppure anche come lumberjack dynasty per quanto riguarda lo scavo e in buona sostanza ragazzi dobbiamo realizzare un piccolo solco all'interno del mondo di gioco di nostra proprietà quindi supponiamo di voler piantare un albero in questa zona semplicemente dobbiamo avvicinarci e semplicemente scavare un bel solco ed eccolo il solco formato poi ci spostiamo più o meno ad un'altra ad una certa distanza perché chiaramente dobbiamo separare gli alberi altro lo mettiamo più o meno qua ok è un altro lo mettiamo più o meno qua giusto per individuarli al volo ragazzi di 1 2 3 4 perfetto a questo punto questa la possiamo anche riporre e andiamo a prendere le piantine che avevamo preso poco fa allo shop quindi ne prendiamo una ci fermiamo più o meno nei dintorni della zona premiamo x e automaticamente abbiamo trasferito la nostra piantina chiaramente necessiterà chiaramente dei suoi periodi di sviluppo quindi crescerà piano piano ma poi alla fine diventeranno tanti bei alberelli che andranno di fatto a ripopolare la foresto perlomeno le zone che sono state per l'appunto per lungo tempo oggetto del mio taglio legna per allestire un po il tutto quindi quale andiamo a piantare un'altra andiamo a prendere un'altra ancora giusto per testare ok perfetto mi pare che ne avevo fatto quattro ragazzi di solchi quindi andiamo a prendere anche l'ultima piantina in attività anche molto simpatica a mio avviso ci fermiamo qui come potete vedere facciamo anche un bello screenshot e andiamo a piazzare anche l'ultima piantina ragazzi quindi attraverso chiaramente un ciclo di crescita continuo che si avvarà chiaramente di un timer come potete vedere da 1 a 100 mi pare di avere visto con la vista ecco da un accendo quando arriveremo in pratica raggiunge il cento per cento in pratica l'albero sarà completa ma serviranno servirà parecchio tempo perché possa raggiungere però appunto queste dimensioni però ci sta anche questa nuova attività di ripopolamento del verde andiamo a testare adesso il trasporta tronchi andiamo a tagliare giusto quest'albero visto per fare un test ok andiamo a convertire il tutto in piccoli tronchettini come abbiamo sempre fatto però questa volta abbiamo la possibilità di trasferirli all'interno del di questo carrellino porta tronchi quindi direi che è stata questa una grande innovazione però hanno introdotto ragazzi anche un'altra novità in merito ai tronchi cioè c'è anche un modo per arrotondare coi guadagni quindi se magari abbiamo una fattoria piena di di tronchi e non sappiamo come liberarci ma perché magari abbiamo tante strutture oppure non intendiamo per appunto utilizzare quei tronchi ma comunque guadagnarci sempre qualcosa possiamo sempre a rivenderle e quindi hanno introdotto una valuta anche per quanto riguarda per l'appunto il costo dei tronchi che varranno due dollari l'uno mi pare se non ricordo male quindi ci sarà anche una discreta vendita anche che è un certo valore anche per i semplici tronchi quindi saliamo qui e come potete vedere li possiamo trasportare benissimo poi per una successiva vendita nel frattempo ragazzi direi che è arrivato il momento di dimostrarvi la seconda grande novità in game quindi vediamo un po di tornare nei dintorni della mia fattoria vediamo di qua riprendiamo giusto qui ragazzi hanno introdotto un'altra grande novità ed è legata al mondo dei cavalli i cavalli adesso possono accoppiarsi possono dividersi chiaramente in puledri e chiaramente puledrine dalla loro dal loro accoppiamento chiaramente verranno fuori dei bei pulederini ora si porge un problema come capire il sesso del cavallo che avevo in precedenza l'unica maniera non è guardare chiaramente il sesso perché i cavalli sono sessuati in questo titolo l'unica maniera per vedere il sesso del nostro attuale cavallo ho scoperto ragazzi che una cavalla perché già ho dato un'occhiata in anticipo l'unica maniera è recarsi all'asta dei cavalli come di consueto è l'unica maniera ragazzi quindi andiamo all'asta come se volessimo per l'appunto acquistare un cavallo e come potete vedere adesso i cavalli hanno un simbolo per indicare per l'appunto un esemplare un esemplare femmina una puledrina e il classico simbolo azzurrino per identificare un puledro maschio se invece vogliamo vedere il sesso del nostro cavallo dobbiamo andare su vendi come se volessimo vendere il nostro cavallo ma non lo venderemo affatto però giusto per capire questo per esempio è il mio attuale cavallo che in realtà poi ho scoperto essere una cavalla in questo caso però non lo vado chiaramente a rivendere ma andrò per l'appunto ad acquistare un in questo caso mi serve un puledro un cavallo per l'appunto per farlo accoppiata quindi vado su acquista e vedo se c'è un cavallo che può andare a può fare al caso mia chiaramente questo è un puledro una cavallina quindi questo non mi interessa quindi saltiamo ecco questo mi potrebbe anche interessare però il prezzo forse abbastanza altino però proviamo a scommettere un po vediamo ecco è andata bene ragazzi con 7 mila crediti è venuto fuori un bel cavallo anche con dei bei valori che si fa adesso chiaramente saliamo a bordo e quindi in groppa al cavallo e ci dirigiamo al mio range ecco un po di fatica per gallo parlo perché sono ragazzi le prime volte quindi ancora il cavallo non ha preso chiaramente empatia però qua possiamo vedere ragazzi i valori del cavallo e mi andata anche piuttosto bene perché c'è i valori già abbastanza performanti di resistenza velocità maneggevolezza e salute potrebbe venire fuori un bel puledrino dall'accoppiamento ripeto di questo cavallo che poi chiaramente andrò anche a rinominare con la mia cavallo che attualmente è al range diciamo nel nel recinto dei cavalli una delle ultime strutture ragazzi che avevo realizzato se vi ricordate bene andate a rivedere l'episodio e allora se andiamo giù apriamo ok cavallo entra senza problemi e come potete vedere abbiamo adesso due bei cavalli questo devo rinominarlo adesso prenderò chiaramente l'etichettatrice anche per distinguerlo con l'altro puledro che alla fine una puledra quindi ho deciso di chiamarla magda nome che poi vi spiegherò perché ho inserito magda perché adesso andrò a rinominare il mio nuovo cavallo quindi vado a prendere per l'appunto l'etichettatrice degli animali come faccio sempre quindi funzionerà anche con per l'appunto con il nuovo cavallo quindi apriamo qui l'etichettatrice se non ricordavo bene dovrebbe essere qui ho ancora qualche punticino disponibile quindi mi vado per l'appunto a ad etichettare il nome del mio nuovo cavallo qui facciamo attenzione si aprono sempre dove non dovrebbero aprirsi e allora questo chiaramente il mio nuovo cavallo che adesso andò per l'appunto ad etichettare quindi diamo un nome chiaramente siccome magda è il nome della mia cavalla chiaramente non potevo non scegliere che per l'appunto furio e così faccio curio e magda direi che con accoppiata ci sta quindi ragazzi che cosa dirvi con questo aggiornamento quindi che cosa hanno introdotto hanno introdotto quindi il sesso dei cavalli che chiaramente dopo un po di tempo tenderanno ripeto ad accoppiarsi e poi nascerà per l'appunto un piccolo puledrino che andrà ad avere poi come caratteristiche un mix delle statistiche di entrambi i cavalli in buona sostanza quindi adesso devo dire che l'allevamento ha una logica perché per l'appunto avere l'opportunità di poter avere per l'appunto anche un rientro economico dalla vendita di eventuali cavalli che si andranno per l'appunto generale potrebbe essere anche molto molto positivo ragazzi allora questa vecchia etichettatrice non mi serve più quindi la vado a riporre nuovamente nel nel mio piccolo garage questa la possiamo anche richiudere perfetto nel frattempo ragazzi cercavo il mio mio cane perché se non ricordo male balto dovrebbe essere nelle vicinanze probabilmente a volte gli animali domestici si allontano un po per poi ritornare quindi non è un problema allora facciamo una cosa ragazzi io mi occupo di fare un po di attività di routine e poi facciamo i saluti e allora dovrebbe esserci un contenitore vuoto questi sono tutti pieni vediamo un po 40 40 40 vediamo se abbiamo spazio qui prendiamo questo ragazzi raccogliamo un po di peperoni ok non c'è nessuno spazio nei container vabbè poi ragazzi andrò a fare una bella scorta da anche di questi contenitori andrò a fare anche una piccola vendita ma oggi era un episodio ragazzi in cui volevo per l'appunto concentrarmi soprattutto su queste novità per l'appunto però prima della chiusura andiamo a dare un'occhiata al rimorchietto per l'appunto del dei tronchi ora ragazzi lasciamo perdere che è un test però volevo solo mostrarvi anche la vendita dei tronchi e poi per l'appunto facciamo i saluti anche per valutare per l'appunto la vendita dei tronchi sono appena quattro tronchi quindi guadagnerò la minza aerea però è un modo anche per capire come per l'appunto una volta che magari il carrellino sarà pieno di tronchi possiamo per l'appunto guadagnare su qualcosa anche dalla vendita per l'appunto dei nostri tronchi per cui mi dirigo velocemente e nuovamente allo shop giusto per andare a testare anche questa giunta ragazzi non mi sono soffermato qui perché per l'appunto non ci sono novità per quanto riguarda dei mezzi nuovi quindi inutile soffermarmi oggi mi sono prevalentemente concentrato sulla mia voglia ripeto di tornare ad affrontare un nuovo appuntamento su questo titolo e andare per l'appunto a spulciare le novità più interessanti di questo aggiornamento 1.063 un aggiornamento ripeto che c'è stato in queste ultime ore proprio il giorno di ferragosto e oggi per l'appunto voglio dare un'occhiata insieme a voi per andarlo un po a visionare per bene allora mi devo fermare probabilmente qui diamo un po se ho ragione io e allora andiamo su vendi tronco come potete vedere quattro tronchi 8 euro per la verità sono pochini però immaginate di fare più viaggi con il carico del rimorchio pieno però era un modo anche per valutare anche la vendita per l'appunto dei tronchi come una attività ulteriore ragazzi direi che anche per oggi è tutto spero che anche questo ennesimo appuntamento della mia serie qui su range simulator vi sia piaciuta io vi invito come sempre a lasciare un bel pollicione su iscrivervi al canale lasciare pure un bel commento che fa sempre piacere noi ci ascoltiamo alla prossima volta da parte mia ciao 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 ciao